E cari utenti YouTube, io Switch Disposition sinceramente non la so, però siccome ci piace e credo piace pure a voi, la stiamo suonando, ci presentiamo, alla chitarra abbiamo Marco Rosaia, al basso Cristiano Versace, alla batteria Andrea Settio, e io sono Piero Frenna. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti